Il 14 aprile chiude la statale Contessa. Istituzioni, associazioni di categorie, operatori del commercio e dei trasporti, nonché residenti dell'area del Buranese, si sono confrontati nell'ultima puntata di Link in onda il mercoledì su TRG. In studio il sindaco di Gubbio, Filippo Stirati, e in collegamento quello di Fano, Massimo Seri, Luca Colaiacovo per Confindustria dell'Eugubino Gualdese, Barbara Marzili per Confcommercio Gubbio, Andrea Rueca per CNA. Dal ristorante San Bartolomeo, che insiste proprio sulla Contessa, lo sfogo degli operatori del settore turistico, ovvero ristorazione, agriturismi e bed and breakfast. Chiaramente la chiusura della Contessa ci costringerà quasi a chiudere perché non avendo più transito lungo la strada non avremo coperti necessari per poter rimanere aperti. Questa sarà la prospettiva che ci aspetta. Quello che chiediamo è che magari i tempi vengano accelerati in qualche modo per poter riaprire il prima possibile. Ho scelto il periodo giusto per aprire questo B&B. Visto che la strada sarà chiusa, non so cosa dirò ai miei futuri clienti, come raggiungere Gubbio, come raggiungere Perugia, come viaggiare in sicurezza, anche perché la strada non è sicura a quello che abbiamo avuto a sapere con l'incontro del sindaco venerdì, quindi non sappiamo la viabilità quale sarà. Ti dicevo che non so cosa aspettarmi, in quanto la ristorazione ho avuto già disdette per cresime, comunione, cerimonie varie. Per quanto riguarda l'alloggio, la vacanza estiva, i ponti vari, non so se magari chi viene da me dice vabbè devo allungarla di tot chilometri, prima però devo dargli un'alternativa valida come Maurizio. L'importante è capire quello, se ci sia un'alternativa valida è sicura, però chi viene da me magari dice l'allungo di 10 chilometri, sono in vacanza, posso anche farlo, ma dopo la seconda recensione che mi fanno io sono sicura che avrò un calo di prenotazione, quasi sicura. Non meno i disagi per chi percorre la strada tutti i giorni dagli autotrasportatori, già oggi penalizzati dal semaforo in galleria ai pendolari. Sì, abbiamo difficoltà in ogni viaggio, ogni tratta perdiamo due ore sia l'andata che il ritorno, avendo la media di 10 camion al giorno che vanno su Roma, quindi la difficoltà è abbastanza grande. Sarà chiusa la Contessa per almeno 10 mesi, si stimano tempi ulteriori per il transito di circa 30 minuti, significano anche però costi ulteriori. Sì, oltre al tempo perso anche le perdite di viaggi perché non riusciamo a rientrare in tempo per poter ripartire, quindi avremo dei costi maggiori sia a livello di gasolio e tutte le spese che gombano nel nostro settore. È più di 30 anni che faccio questa strada, è 30 anni che regolarmente abbiamo un semaforo o la strada ferma, quindi comincia a essere stancante. E adesso veramente quello che ci fa più arrabbiare è il fatto che prima si trova un'alternativa vera, prima sicura, definitiva, poi si decidono i lavori. Invece prima si sono decisi i lavori e poi si è pensata la strada alternativa, tra l'altro che è un'alternativa molto più pericolosa di quello che è la Contessa attualmente. La richiesta di tempi certi per il cantiere che si ipotizza possa chiudere in 10 mesi, anche se lo scetticismo nel territorio, dati trascorsi, regna sovrano. Noi vogliamo delle certezze nero su bianco sulla data di riapertura, perché un'attività, loro non lo sanno, ma investe e deve investire sul sicuro, non sul forse se piove, se nevica e se la donzelletta viene dalla campagna. Ci vogliono certezze, nero su bianco, perché l'ultimo intervento della provincia ci promise che sarebbe stata l'ultima chiusura, visto che il ponte andava sistemato ma dal sotto, senza darci problemi. Poi abbiamo l'esempio di Cantiano, che doveva essere un lavoro di sei mesi, sono cinque anni, io non so se fanno quel ponte all'uncinetto. Tra l'altro aggiungo che la vecchia strada della Contessa negli anni 50 è stata fatta dagli abitanti del luogo, per un carro, non per un autotreno, logicamente. Però c'era modo di migliorarla perché è una valvola di sicurezza per la stessa Contessa, come lo è quella di Montepicognola, che nessuno ha valutato. Al sindaco gli è stato proposto, visto che ha preso appunti, perché le strade non sono mai troppe. A dicembre probabilmente il panettone sulla Contessa non verrà mangiato, usando questo termine calcistico, perché le lungaggini che ci sono nei lavori, nell'andazzo che ci ha sempre avuto la Contessa, che noi la percorriamo, sono 30-40 anni, ogni anno c'è un cantiere, mi sembra una cosa assurda. Quindi quel progetto della Cassa di Risparmio lo volete finanziare o no? Perché quello è importante. Poi vorrei dire ai due sindaci, al sindaco Stiratti, che dal 2014 al 2023 anche lui poteva tirarlo fuori, non quello di prima, dal 2005 al 2014. E al sindaco Seri, che adesso si accorge che la Contessa è strategica, quando si facevano i convegni a Cagli, sulla Contessa, anche qua, e loro non si sono mai visti. Dopo 5-6 anni che tutti vanno dall'Umbria, con la Perugia ancora, vanno tutti a Civitanova, oppure da Foligno, allora a Marotta e Fano hanno dimezzato le presenze, allora adesso la Contessa è importante. Da gubbio l'impegno del sindaco Stiratti a tenere alta l'attenzione sulla Contessa, con un prossimo evento che si terrà in città, da Confindustria, Confcommercio e CNA, l'impegno a collaborare effettivamente.